Un annuncio dello Smithsheim nell'Università di Harvard negli Stati Uniti d'America, dopo un esperimento fatto al Polo Sud, sarebbero state rilevate, per la prima volta registrate in assoluto, tracce di onde gravitazionali. Tale scoperta potrebbe rivoluzionare il mondo della cosmologia. Secondo il professor Paris, cosmologo, le cosiddette onde gravitazionali avrebbero lasciato, per così dire, una firma ben precisa, interagendo con la radiazione cosmica di fondo, o raggi cosmici, dando luogo all'energia residua che poi ha creato il Big Bang, l'inizio dell'universo. Grazie anche alla prova matematica delle equazioni pensate da Albert Einstein. Se ci saranno ulteriori novità, sono senz'altro pubblicate sul canale. Grazie. Grazie. Grazie.